L'incidente all'Ostagono questa mattina, lo vedete, una delle decorazioni che ornavano proprio al centro della Galleria di Milano è crollata, lo vedete, eccola qua, colpendo una signora che è stata trasportata al policlinico d'urgenza per un trauma cranico. Un po' di sbarosti e finito una persona che segue tutta la posta. E nell'attesa di capire cosa è successo al cuore di Swarovski dell'Ottagono e augurando la signora una pronta guarigione, l'altra decorazione che vedete alle mie spalle con questo lento non è esattamente stabile, speriamo bene.